Mesi di chiusura e disagio a non finire per gli atleti e per i semplici appassionati. La chiusura a tempo indeterminato della piscina di Mugio a Como sta mettendo letteralmente in ginocchio le società sportive e non solo. La vasca olimpionica dell'impianto è piena ma il riscaldamento è però spento per limitare i costi di manutenzione. Noi continuiamo a lavorare ogni giorno così come ogni giorno ci sentiamo e discutiamo sul da farsi con il comune. ha spiegato Stefano Berti direttore responsabile della piscina di Mugio ma il punto è un altro ad oggi non possiamo dire quanto tempo ci vorrà per arrivare ad una riapertura. Più di 1000 atleti piccoli e grandi che praticano nuoto palla nuoto e nuoto sincronizzato non hanno di fatto più il loro punto di riferimento per gli allenamenti e per le competizioni. I lavori da fare sono numerosi aggiunge sempre Berti si tratta però di molti interventi di poco conto ai fini dell'utilizzo della vasca. Purtroppo il percorso che ci aspetta davanti è ancora potenzialmente lungo. La responsabilità da qualche parte andrà ricercata non per trovare un colpevole a tutti i costi ma per capire cosa sta accadendo. Per noi società sportive si tratta di un problema molto serio non poter disporre dell'impianto. A parlare il presidente della palla nuoto Como Giovanni Dato che dalla chiusura della piscina di Mugio sta ricavando enormi problemi. Abbiamo circa 140 atleti che quotidianamente devono affrontare problemi per potersi allenare, si devono spostare in altre strutture, spendere soldi che difficilmente verranno in qualche modo rimborsati. Purtroppo gli aggiunge forse quando si sono verificati i primi seri problemi come il cedimento di una piccola parte del soffitto lo scorso mese di maggio bisognava immediatamente intervenire per capire la reale situazione della struttura e adoperarsi in tal senso. Altro tema caldo la stipula della convenzione con la federazione italiana nuoto che diventirà il gestore dell'impianto di Mugio. Il comune fa sapere che a breve l'accordo sarà siglato. Grazie a tutti.